Musica 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 Era naturalmente Ancora Romano Seconda linea, pallonetto, recupera Bisi Tiberti Ancora Galliani, bella la difesa di Fusco Fabroni, Spigi, posto 4 per Jutin, tocca il muro di Brescia Tiberti ricostruisce Ancora Galliani, chiamato agli straordinari in questo via di partita Ottimo il suo inizio, migliore dei suoi Battuta interessante Eis Della lunga Così così in ricezione Va lui poi ad attaccare Appoggia solamente su Bisi, Tiberti Spinge per Cisolla Uh Galliani Riceve abbastanza bene Bisi attacca Il pallone rimane lì, Cisolla Ancora Bisi Seconda linea Sontuosa Iudin Non riceve benissimo Palla staccata da rete Della lunga Poggi in bagger Cisolla Tiberti Al centro Esposito Esposito Battuta molto buona Fusco in difficoltà Palla per Roma No Il muro su Roma No Ancora Esposito 21-12 Buona la battuta Tiberti si sposta Palla per Bisi Il pallone È in campo E Brescia Si aggiudica Questo Primo set Grande sicurezza I compagni di squadra Solamente restando in campo Tiberti Per Bergoli In difficoltà Ancora confusa La ricostruzione di Siena Palla per Tiberti Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì smart battuta al centro Esposito battuta ancora forte di Iudin Bergoli va su che lungo linea però Galiani non riceve bene Romano prova a punire Brescia Tiberti è lì in difesa e poi arriva una ricostruzione vincente con Fabio Bisi Galiani Tiberti per Galiani smarcato molto bene per il 5-2 dall'inizio del match 15 punti davvero niente male Fabroni al centro muro su Barone poi ancora della lunga difesa buona di Frazzoni palla alta per Galiani che va su e trova un punto Es De Gallo per il 10-5 Bisi in battuta la forza Fusco a terra Ciulli dietro per Romano difende Franzoni difesa importante contraattacco importantissimo Bisi arriva Fusco in difesa della lunga dalla seconda linea il muro di Esposito Fabio Bisi pallone di qua Esposito Tiberti va su tenta il tocco Siene pronta Bisi seconda linea gran palla per Fabio Bisi ci riprova Ace di Michele Bergoli importantissimo Iudin buona battuta Franzoni dà comunque un ottimo pallone a Tiberti Candeli Candeli prova a chiudere Fusco recupera il pallone e alla fine il pallone giocabile Galliani palla dietro per Bisi che mette a terra dopo un'azione rocambolesca Galliani in difficoltà sulla buonissima battuta di Zamagni va su ancora Galliani difende Siena Esposito per Tiberti dietro Bisi che trova il punto Romano la battuta molto interessante ben ricevuta però arriva Galliani con uno splendido tempo buona però la difesa risiera palla per Della Lunga contrasto Muro si rigioca Scioli dietro per Romano tocca il muro Bresciano Bergoli difende Tiberti dietro Bisi ancora la difesa si rigioca Della Lunga prova a chiudere difende bene Franzoni palla per Galliani Muro out che scambio di match tutto da seguire Esposito vediamo se riesce a trovare una battuta convincente lo fa Scioli palla dietro per Romano la difesa Tiverti palla per Bisi palla out batte al centro su Judin che però riceve bene al centro Scioli la difesa di Bergoli palla alta importante per Galliani va su difende molto bene Fusco Scioli dietro per Romano Tiberti difende va su Bisi pallonetto bella difesa di Fusco arriva a Roma no e c'è il muro di Galliani di Giacomo